Buongiorno a tutti, andiamo oggi a parlare della fertilizzazione. La fertilizzazione è un momento ovviamente, è il momento d'inizio dello sviluppo embrionale, è il momento in cui il gamete maschile, lo spermatozoo, incontra l'ocita e inizia lo sviluppo embrionale. Ovviamente è un momento chiave e cercheremo di descrivere alcuni aspetti che sono a mio parere interessanti sia dal punto di vista molecolare che dal punto di vista evolutivo. Il primo attore coinvolto nella fertilizzazione è la cellula germinale maschile che è nota appunto come spermatozoo. Lo spermatozoo lo abbiamo descritto nella lezione precedente, lo andiamo rapidamente a rivedere. È una cellula allungata con una coda che permette ovviamente la motilità dello spermatozoo di un ambiente essenzialmente umido o liquido. Il nucleo è presente nella testa dello spermatozoo e come vi ricordate questo nucleo è un nucleo estremamente compattato e quindi di dimensioni piccole che favoriscono il movimento dello spermatozoo ma naturalmente sfavoriscono l'espressione dei geni che sono compatti e quindi devono essere in qualche maniera aperti prima di poter essere trascritti. La testa dello spermatozoo contiene anche una vescicola che abbiamo descritto come vescicola crosomale. Questa vescicola è una modificazione di un apparato dell'apparato del Golgi, un apparato quindi coinvolto nella condizioni diciamo non germinali nella formazione di proteine, glicosilazione di proteine che verranno secrete e che si modifica proprio in una serie di vescicole che stanno sotto la testa dello spermatozoo. In queste due diapositive, in queste due immagini vediamo effettivamente esempi visti al microscopio di spermatozoi in cui sono disegnati, sono rappresentati in maniera molto chiara al nucleo, il flagello e anche in questo caso con una forma un po' diversa. Andiamo invece adesso a vedere quella che è la struttura morfologica dell'oocita. In questa diapositiva vediamo qua sotto una serie di oociti umani raccolti per fare fertilizzazione in vitro, in questo caso ci troviamo come potete osservare c'è una cellula rotondeggiante che è circondata da una specie di alone, alone biancastro. Questo alone biancastro rappresenta la cosiddetta della zona pellucida. È uno schema relativamente complicato della struttura dell'oocita, non dobbiamo ovviamente studiarlo a memoria ma dobbiamo concentrarci su quelli che sono i punti proprio centrali dello stesso. Abbiamo visto nella lezione precedente che l'oocita aumenta di dimensioni in maniera diversa a seconda della specie perché accumula sostanze nutrienti, quindi il nostro oocita sarà più o meno grande a seconda dell'accumulo di sostanze nutrienti. Aspetto numero uno. Abbiamo adesso l'aspetto numero due che abbiamo descritto, l'oocita ovviamente non compatta il nucleo e il nucleo sarà pronto per gli eventi di trascrizione dei geni, quindi per l'espressione dei geni. L'aspetto tre che abbiamo visto dell'oocita è la presenza di RNA che sono già localizzati in punti precisi. Questo è ovviamente indica che questa cellula ha già un programma pronto per partire, un programma diciamo già, un libro già scritto che deve essere soltanto letto nelle prime fasi dello sviluppo. Aspetto tre. L'aspetto quattro che abbiamo visto è appunto anche la presenza di mitocondri che saranno quelli che daranno poi origine a tutti i mitocondri presenti nell'embrione che si svilupperà. Quindi l'oocita è una specie di fabbrica di contenuto di cose già pronte per le prime fasi dello sviluppo embrionale, nutrienti, mitocondri, RNA messaggeri che sono già stati depositati alcuni in posizioni ben precise e anche ovviamente un nucleo che è pronto a trascrivere un programma. La cellula poi può essere più o meno grande a seconda di quante sostanze nutrienti accumula. L'aspetto nuovo è la presenza della cosiddetta zona pellucida che abbiamo visto nella diapositiva precedente. la zona pellucida è una zona chiamata così perché è appunto lucida se vista al microscopio soprattutto quella a contrasto di fase è una zona relativamente spessa che contiene delle glicoproteine che sono delle grosse proteine che sono all'esterno della membrana plasmatica dell'oocita. Sotto la membrana plasmatica nell'oocita ci sono una serie di granuli, questi visibili soltanto al microscopio elettronico, granuli molto piccoli che vengono chiamati granuli corticali e saranno proprio questi granuli corticali a giocare un ruolo fondamentale nelle prime fasi, nella primissima fase della fertilizzazione. In questa diapositiva c'è una curiosità. La curiosità è la seguente, la vediamo qua sotto. Mentre lo spermatozoo nel momento della fertilizzazione ha completato ovviamente sia la maturazione morfologica che quella genetica, cioè ha finito la meiose, è una cellula haploide pronta a iniziare un programma di sviluppo embrionale dopo la fertilizzazione, l'oocita è spesso in gran parte delle specie è arrestato e bloccato in una fase della meiosi. Come vedete in questa diapositiva ci fa vedere come l'oocita prima della fertilizzazione a seconda della specie può essere bloccato in una diversa fase dello sviluppo genetico della meiosi. In altri termini la maturazione morfologica è completa, le sostanze nutrienti sono state accumulate, l'RNA è pronto ma questo oocita di fatto è bloccato, è quiescente. Questo è un aspetto evolutivo estremamente interessante e importante come vedete nei mammiferi il loocita è essenzialmente bloccato alla seconda metà fase prima della fertilizzazione, ma come vedete questo fenomeno è diverso a seconda della specie ma nello stesso tempo comune. Soltanto pochi oociti, in poche specie c'è il completamento della meiosi prima della fertilizzazione. Tutto questo uno potrebbe chiedersi qual è il significato funzionale. Il significato funzionale è che il metabolismo dell'oocita prima della fertilizzazione è totalmente arrestato. È un pochettino simile al discorso se vogliamo fare una speculazione dello spermatozoica dei mammiferi che ha bisogno di essere attivato solo con l'eiaculazione passando attraverso al canale al dotto spermatico. Anche in questo caso l'oocita è una cellula quiescente che verrà svegliata tra virgolette dalla fertilizzazione. Ovviamente questo ha un grosso vantaggio evolutivo perché permette alle cellule di non consumare energia e quindi di essere più stabili per un periodo più elevato a iniziare la traduzione di quegli RNA che hanno accumulato soltanto nel momento della fertilizzazione. La fertilizzazione è un evento che come biologi e come naturalisti conoscete chiaramente meglio di me. in natura esistono sostanzialmente due grandi modalità con cui questa si esplica. Abbiamo la fertilizzazione interna che è mostrata qua sulla destra nel gallo, nel pollo domestico e la fecondazione interna come dice il nome significa che c'è un organo copulatore e gli spermatozoi del maschio sono depositati in prossimità dentro il canale nella cloaca nel caso della gallina ma in prossimità sostanzialmente dell'ovario. Abbiamo poi in natura la fertilizzazione esterna che ovviamente è presente in diversi organismi acquatici dove la femmina e il maschio depongono, rilasciano nell'ambiente uova e spermatozoi. Diciamo che dal punto di vista evolutivo quello che conta è l'efficacia poi della fertilizzazione e evidentemente la fertilizzazione interna è generalmente associata a una procedura, a una struttura nella quale il numero di oociti che la femmina depone è relativamente limitato e questo vale ovviamente negli uccelli, nei rettili e in misura decisamente minore negli anfibi mentre la fertilizzazione esterna in genere è ovviamente legata a una quantità grandi di uova che possono essere emesse nell'ambiente e così via. In entrambi i casi ricordiamoci che sia che la fertilizzazione sia esterna che interna il comportamento riproduttivo e questa è una cosa che sicuramente sapete meglio di me, il comportamento riproduttivo si adatta per incrementare la possibilità dell'incontro tra lo spermatozoe e lo oocita, quindi in qualche maniera in molte specie abbiamo comunque delle fasi varie di corteggiamento e così via di vicinanza tra il maschio e la femmina anche se la fertilizzazione è esterna. Una volta che lo spermatozoe è emesso nell'ambiente, se si tratta di fertilizzazione esterna, questo spermatozoe deve ovviamente incontrare lo oocita. Nel caso degli organismi acquatici con fecondazione esterna si notano dei fenomeni sostanzialmente anche di chemiotassi, la chemiotassi è il movimento di una cellula verso un'altra cellula, verso una posizione dell'ambiente guidata da molecole, da segnali chimici. Il caso che qui viene mostrato è nel riccio di mare e in questo caso se noi mischiamo effettivamente, vedete qui abbiamo delle immagini di fertilizzazione in vitro, dove chiaramente potete distinguere gli oociti che sono queste strutture ovviamente circolari, sferiche. Se noi mettiamo una pipetta che contiene sostanzialmente lo sperma, vediamo come nel giro di circa 90 secondi, che è la lunghezza di questa immagine, abbiamo poi una concentrazione degli spermi che si muovono non a caso ma stanno in aree concentriche. L'idea ovviamente è che esistano dei peptidi, delle proteine chemiotattiche che in qualche maniera attraggano lo sperma, quindi fanno in qualche maniera, fanno sì che lo spermatozoo nuoti verso l'oocita e non vada da un'altra parte. Il fenomeno della chemiotassi naturalmente è assente nel processi di fertilizzazione interna. Andiamo adesso ad occupare della fertilizzazione interna nei mammiferi. Questo che vediamo qua è uno schema semplificato dell'apparato riproduttivo della femmina e di quello che essenzialmente capita durante la fertilizzazione. Lo seguiamo un attimo. Innanzitutto volevo ricordare rapidamente com'è costituito l'apparato genitale della femmina. L'apparato genitale della femmina è costituito da due ovari che sono in stretto contatto con un ovidutto e depositano praticamente organi pari. Naturalmente nell'ovidutto viene depositato l'oocita. Gli ovidutti terminano sostanzialmente in una specializzazione dell'ovidutto che viene chiamato utero. L'utero è un organo impari posto in cavità centrale nella donna e l'utero poi comunica con una specie di collo che è il collo uterino con la vagina vera e propria. Il collo dell'utero è quindi il punto di contatto tra la vagina e l'utero. E' una parte peraltro per fare una piccola digressione estremamente importante nella patologia perché come sapete il collo dell'utero è tra l'altro il bersaglio di una malattia che fino a trent'anni fa era veramente un killer della donna che è il tumore del collo dell'utero. Adesso questo tumore è stato estremamente ridotto nella sua letalità prima attraverso le tecnologie di screening come il pap test e credo che nella vostra generazione con la vaccinazione per il papillomavirus sia praticamente un tumore destinato quasi a scomparire. Fatta questa divagazione i concetti, i punti sono dove c'è azione sono tre, l'oocita viene ovviamente prodotto nell'ovario e viene scaricato nell'ovidutto, lo spermatozoo viene invece rilasciato nella vagina e ultima cosa lo sviluppo embrionale avviene nell'utero dove ovviamente l'embrione si impianta e come vedremo nelle lezioni successive cresce. Tutto questo significa che l'oocita viene rilasciato nelle tube uterine e incontra lo spermatozoo che praticamente sale dalla vagina all'utero, dall'utero prende la strada dell'ovidutto e la cosa importante è che lo spermatozoo feconda l'oocita in prossimità essenzialmente dell'ovario. Nelle prime fasi dello sviluppo embrionale dei mammiferi quindi l'oocita fecondato cosa succede? Inizierà l'ultima parte della meiosi, completerà la sua maturazione genetica e poi scende dalle tube uterine iniziando la sua proliferazione, la sua segmentazione, la sua divisione multicellulare fino ad arrivare all'utero dove si potrà impiantare. Quindi diciamo che questo è il concetto centrale sarà che lo spermatozoo anche nella fecondazione interna deve praticamente viaggiare molto per andare a incontrare l'oocita, l'oocita che sarà fertilizzato. Questo naturalmente ci porta a ragionare rapidissimamente sul fatto che l'efficienza della fertilizzazione sarà nei mammiferi sia in condizioni normali sia in condizioni patologiche sarà dettata da tre aspetti fondamentali. Ovviamente il numero di spermatozoi più sono tanti e più è facile che uno arrivi nell'ovidutto nelle tube uterine e possa fecondare un'ovidutto ovviamente la motilità dello spermatozoo più lo spermatozoo è mobile e più è facile che ci arrivi e ovviamente la forma dello spermatozoo ma questo chiaramente è un aspetto abbastanza evidente. Quindi questi sono aspetti interessanti perché vi ricordate che nel maschio effettivamente la strategia riproduttiva si basa sulla produzione di un grande numero di spermatozoi numero di spermatozoi che però tende anche questo a diminuire con l'età anche se non avremo mai questa fase di simile alla menopausa della donna dove l'oocita non viene proprio più prodotto e quindi la fertilità maschile anche questa però è destinata a calare col proseguire dell'età o di condizioni che diminuiscono il numero e la motilità degli spermatozoi. La domanda che ovviamente ci dobbiamo fare è come fa lo spermatozoo a riconoscere questo oocita? Ovviamente questo è un aspetto che è stato studiato dal punto di vista molecolare in maniera molto estesa e questi studi hanno anche una importanza applicativa naturalmente ma le domande che dobbiamo farci dal punto di vista evolutivo sono due 1 come fa lo spermatozoo a riconoscere l'oocita e 2 com'è che avviene quali sono i meccanismi protettivi che in qualche maniera evitano che uno spermatozoo possa fecondare oociti di specie diverse. Naturalmente sul secondo aspetto c'è tutta una discussione anche importante sui comportamenti, su quello che evolve insieme alle molecole, cioè il comportamento animale, ma invece sulla parte del riconoscimento è chiaro che abbiamo poi un aspetto molecolare. È evidente che il modello che tutti hanno in testa e da moltissimi anni è che lo spermatozoo e l'oocita si riconoscono attraverso delle molecole specifiche, nell'oocita sono presenti in qualche maniera dei recettori per lo spermatozoo e nello spermatozoo sono presenti proprio i ligandi per i recettori. Questi ligandi e questi recettori però vi vorrei portare a riflettere che in qualche maniera devono essere estremamente efficienti e devono essere nel riconoscimento specifico tra spermatozoo e oocita. Dal punto di vista molecolare, solo per darvi un'idea, noi sappiamo che sono stati identificati sia i recettori presenti nell'oocita e i ligandi presenti nello spermatozoo. In questa diapositiva vediamo la struttura di uno dei recettori presenti nell'oocita, struttura molecolare che non vi sto a descrivere anche se è estremamente affascinante perché potete notare questa struttura, queste due parti della molecola che se guardate attentamente sono abbastanza speculari una all'altra, vedete questa zona qua e questa zona che sono molto simili e queste due zone che sono praticamente duplicate. ma lasciamo perdere questo tipo di considerazioni molecolari, praticamente diciamo che Zp3 è uno dei recettori nell'oocita che riconosce praticamente lo spermatozoo e come vediamo dalla diapositiva di destra, mutanti di Zp3 non soltanto hanno un'alterazione, non riconoscono l'oocita ma proprio in realtà se confrontiamo un mutante, una cellula mutante per Zp3 rispetto a una cellula normale vediamo che proprio tutta la struttura della zona pellucida è cambiata. Questa è una diapositiva che ovviamente non dovete studiare a memoria ma che dovrebbe darvi un'idea di quello che in realtà poi è la realtà dei fatti che è molto più complicata che un modello in cui c'è un recettore, c'è un ligando, si riconoscono e parte tutto. Nella realtà dei fatti grazie alle tecnologie che abbiamo descritto nella prima lezione è stato possibile identificare un numero estremamente elevato di geni, di proteine alla fine che sono fondamentali per il processo di fertilizzazione. Quindi non ci sarà soltanto un sistema ligando recettore ma come vi fa vedere questa diapositiva ci sono chiaramente diverse proteine che poi sono coinvolte e sono essenziali per il processo di fertilizzazione. Queste proteine come vedete possono essere classificate in proteine che in qualche maniera diminuiscono la capacità migratoria dello spermatozoo e diminuiscono la capacità dello spermatozoo di riconoscere l'ocita. Ma ci sono poi anche proteine che sono coinvolti nelle stadi successivi e la cui mancanza effettivamente causa. L'ocita può essere riconosciuto ma poi in realtà la fertilizzazione non può sostanzialmente procedere. Non dobbiamo studiare la memoria, come dicevo, è una parte molecolare di estremo interesse ma vi consiglio di magari come esercizio di pensare a un'ocita che viene un po' schifoso ovviamente in questo mio schema che viene deposto nell'ovidutto, uno spermatozoo che viene invece, anche questo venuto in maniera disastrata che viene deposto nella nella vagina nel caso dei mammiferi o nella cloaca nel caso degli uccelli e pensare a quante possono essere proprio questo spermatozoo deve incontrare l'ocita iniziare a iniettare il suo nucleo nell'ocita potete pensare a quante proteine sono coinvolte e chiedervi esattamente poi a seconda della mutazione della perdita di una proteina potreste provare a simulare che tipo di fenotipo si potrà osservare e questo non è un esercizio soltanto diciamo teorico ma un esercizio che lo troveremo indietro più avanti se quando cercherò di parlare per un attimo se riesco della fertilizzazione in vitro. Naturalmente la fertilizzazione in vitro riesce a risolvere alcuni problemi della dello spermatozoo e dell'ocita ma non ne può risolvere altri e potreste provare voi a ragionare su quali possono essere risolti e quali no. Nel momento che lo spermatozoo incontra la l'ocita abbiamo una cosa che capita in maniera rapidissima che noi chiamiamo la reazione acrosomale. Questo è un termine quindi che dovete ricordare. Reazione acrosomale. Che cos'è questa reazione acrosomale? Beh possiamo immaginare l'ocita, lo spermatozoo a contatto, è nuovamente venuto molto male ma il problema biologico è che ovviamente una volta che lo spermatozoo ha incontrato l'ocita devono capitare due cose, due cose abbastanza evidenti se ci pensate. La prima è che lo spermatozoo riesce a iniettare il proprio nucleo maschile all'interno dell'ocita e la seconda è che che deve capitare è che l'ocita è una cellula molto molto grande, se addirittura pensiamo all'uovo di pollo è una cellula di un uccello, è una cellula che ha queste dimensioni, lo spermatozoo è una cellula che ha delle dimensioni minori del puntino che ho fatto qua, il secondo problema è se uno spermatozoo incontra l'ocita in questa posizione, come fa l'ocita se incontra subito dopo uno spermatozoo nel lato opposto dell'ocita a evitare che venga fecondato da due spermatozoo. Quindi i due problemi biologici, come il pronucleo maschile entra dentro l'ocita e come viene evitata quella che noi chiamiamo polispermia. Il primo passaggio è appunto la reazione acrosomale, la reazione acrosomale implica che la membrana plasmatica dello spermatozoo si fonde con la membrana plasmatica dell'ocita, come vedete qua, e questo implica che questo acrosoma che abbiamo visto prima viene in qualche maniera portato sotto la membrana, si fonde con la membrana e rilascia nella membrana dell'ocita, la zona pellucida in realtà dell'ocita, una serie di enzimi digestivi che praticamente degradano la zona pellucida e permettono alla membrana plasmatica dello spermatozoo di entrare in contatto con la membrana plasmatica dell'ocita. quindi la reazione acrosomale è praticamente una immediata al contatto spermatozoo-ocito, oocita è un immediato fusione della crosoma sulla membrana plasmatica dell'ocita, il rilascio di enzimi proteolitici e glicolitici che digeriscono la membrana pellucida, a questo punto la membrana plasmatica dell'ocita e quella dello spermatozoo sono in contatto e la fusione può avvenire. La fusione di membrane lipidiche è un evento che può avvenire in maniera relativamente semplice aiutata da alcune ovviamente proteine. In questa diapositiva che chiude essenzialmente la prima parte della lezione di oggi sono praticamente elencati i cambiamenti che avvengono subito dopo il riconoscimento dello spermatozoo e della cellula uova, cambiamenti che sono le risposte proprio alla fertilizzazione. Ne andremo a vedere alcune nei dettagli per cui in questa diapositiva c'è un primo elenco che ci dà un'idea essenzialmente del processo nel suo insieme e poi andremo a vedere alcuni aspetti. Dando per secondo zero il contatto dello spermatozoo e della cellula uovo come vedete nel giro di un secondo ma molto meno avremo la fusione tra la cellula uovo e lo spermatozoo. Se ci pensate è ovviamente un fenomeno estremamente rapido. Nel giro di circa 15 secondi ma abbiamo un processo che andremo a guardare dei dettagli che è la fusione dei granuli corticali che stanno sull'oocita alla membrana plasmatica dell'oocita e questa è la risposta funzionale alla polispermia. Dopodiché come vedete abbiamo una serie di cambiamenti morfologici e funzionali ma praticamente l'altro aspetto interessante è che 5-10 minuti dopo la fertilizzazione il nucleo maschile inizia, il nucleo femminile iniziano a migrare uno verso l'altro attraverso meccanismi che sono poco conosciuti e si fonderanno. E infine ovviamente dopo circa un'ora, un'ora e mezza abbiamo la prima divisione cellulare. E con questo finiamo la prima parte della lezione e riprendiamo la seconda proprio da alcuni aspetti specifici.